Buongiorno, sono sportiva e pratico un sacco di sport, allora distinguiamo, nella mia vita ho fatto tanto sport, nuoto, tennis, equitazione, softball, ho giocato, mi piace così dare due calci al pallone, sono una sportiva, ho fatto arti marziali, ho fatto tante cose, purtroppo quando giro dei film non sono tanto costante, non riesco a fare lo sport, quanto vorrei farne, invece come sport che seguo è il calcio, seguo la Roma, mi piace la Roma, sono tifosa. E ha un campione nel cuore? Francesco Totti.